Edizione del telegiornale Nella lingua dei segni. Un cavatore di 55 anni è morto questa mattina poco prima delle 8 dopo essere rimasto schiacciato sotto un masso in una cava della Garfagnana nel comune di Minucciano in provincia di Lucca. A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso con gli operatori del Dipartimento della Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Stava intervenendo anche l'ambulanza infermieristica ma purtroppo è tornata indietro perché il personale dell'elisoccorso ha constatato il decesso del 55enne. La moschea di Firenze sarà trasferita dall'attuale sede sotto sfratto in piazza dei Ciompi a una ex filiale adesso vuota di banca intesa poco distante per cui la comunità islamica locale ha fatto l'unica offerta di acquisto. Lo ha confermato l'imam Isedin El Zir annunciando l'ok da parte di Intesa San Paolo proprietaria dell'immobile che si trova in via martiri del popolo. Secondo l'imam questo è un importante risultato della realtà di Firenze. A Firenze, ancora detto, si dialoga per l'interesse della città. Soddisfatto anche il sindaco Dario Nardella che ha detto oggi siamo a un punto di svolta storico per la nostra città e la comunità islamica di Firenze. Dal 2004 si fanno discussioni, polemiche, politiche, inutile. Siamo arrivati con un gioco di squadra importante a individuare la nuova moschea della comunità musulmana della nostra città. Resterà inagibile a lungo la palazzina uffici dell'azienda del trasporto pubblico di Firenze nello storico deposito di Viale dei Mille palazzina che è stata allagata dai tetti in seguito alla bomba d'acqua di ieri. Il temporale ha allagato stanze, uffici e corridoi ha danneggiato i computer, scrivanie e gli altri arredi del piano terreno e del primo piano. Inoltre ha pure causato il cedimento di controsoffitti e il sospetto ammaloramento di travi ed altri elementi del tetto che aveva già bisogno di una importante manutenzione. I vigili del fuoco hanno quindi stabilito l'inagibilità della palazzina mentre il deposito dei bus e le officine sono rimasti agibili e le attività possono continuare regolarmente. I dipendenti impiegati nella palazzina invece lavoreranno per il periodo necessario in smart working. Intervento dei vigili del fuoco alle tre della scorsa notte per salvare un cane pitbull in via del popolo vicino a Piazza Bovio a Piombino. L'animale, due anni di età, era caduto nella scogliera sottostante e grazie alla fitta vegetazione non aveva riportato ferite però non riusciva a risalire. Utilizzando l'autoscala è stata effettuata dalla squadra una manovra SAF calando l'operatore che ha poi imbracato il pitbull con l'apposita attrezzatura permettendo il conseguente recupero in sicurezza. Il cane, sano e salvo, è stato quindi riconsegnato direttamente al proprietario che ha assistito a tutte le operazioni di recupero. Sul posto è intervenuta anche la polizia. È scattato l'arresto in carcere a carico di un 26enne pakistano accusato del tentato omicidio di un suo connazionale in Maremma in una via del paese di Roccastrada in provincia di Grosseto. Il GIP, su richiesta del PM, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 26enne si era presentato alla caserma dei carabinieri di Roccastrada due giorni dopo aver accoltellato un connazionale di 50 anni al culmine di una lite nella quale lo aveva ferito gravemente con due coltellate alla schiena e all'addome. Secondo il giudice, il 26enne colpiva per uccidere. L'aggressione c'è stata il 3 maggio e la lite sarebbe scaturita mentre i due erano in stato di ubriachezza e alla base ci sarebbero futili motivi anche se gli accertamenti proseguono. L'arma usata sarebbe un coltello da cucina che non è stato ancora ritrovato. Il questore di Lucca ha disposto la chiusura per motivi di sicurezza e ordine pubblico della discoteca Seven Apples sul Viale Roma a Marina di Pietrasanta dopo le indagini dei carabinieri da cui è emerso che il locale è stato luogo di eventi violenti avvenuti il 25 aprile scorso in particolare per una rissa dove furono coinvolti gli addetti alla sicurezza. Inoltre il 1 maggio sempre i carabinieri sono intervenuti nella discoteca per un'accesa discussione tra una ragazza in evidente stato di alterazione probabilmente per l'abuso di alcol e il responsabile della sicurezza del locale contrasto da cui è scaturita una lesione anche ai danni del personale delle forze dell'ordine intervenute per calmare la ragazza. Il provvedimento prevede la chiusura del locale per cinque giorni. Ora il campionato, poi il ritorno in Svizzera giovedì prossimo a caccia dell'impresa. Questo l'obiettivo della Fiorentina tornata già in campo per preparare la partita di domani al Franchi con l'Udinese. Uno scontro diretto per difendere l'ottavo posto e restare agganciati alla zona Europa tenendo conto della situazione della Juventus che potrebbe essere penalizzata. Nel clan Viola però è forte la delusione per la sconfitta maturata al 92esimo contro il Basilea nella semifinale di Conference League. Nonostante l'incessante sostegno dei 35.000 tifosi e il gol iniziale dell'ex Cabral la squadra di Vincenzo Italiano ha subito la rimonta della formazione elvetica che ora ha conquistato un successo che le permette di affrontare la gara di ritorno nel proprio stadio con i favori del pronostico. E a proposito della sfida di Conference i tifosi del Basilea in trasferta a Firenze hanno devastato sette autobus del trasporto urbano sui dieci che erano stati messi a loro disposizione per trasferirsi dal centro allo stadio Artemio Franchi. Lo si apprende da Autolinea Toscana e il gestore unico del trasporto su gomma. La società farà denuncia alle forze dell'ordine. Secondo quanto appreso i sette mezzi danneggiati hanno avuto le porte di velte sfondate o strappate dagli alloggi nonché la rottura sistematica delle telecamere di bordo per la videosorveglianza. I circa 2.000 tifosi svizzeri hanno marciato giovedì pomeriggio nel centro creando disagi anche alla tramvia di cui hanno occupato i binari nella zona della stazione. Poi hanno raggiunto Piazza Santa Croce dove sono stati convinti a salire sugli autobus per andare allo stadio. Chiudiamo con le previsioni del tempo per la giornata di domani domenica. Sarà tempo variabile con precipitazioni sparse più probabili nelle ore centrali della giornata in particolare sulle zone interne precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Venti deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la costa, mari poco mossi o mossi in particolare sul settore centro-meridionale, temperature minime stazionarie o un lieve aumento massime stazionarie. Finisce qui il telegiornale Nella lingua dei sordi. Appuntamento alla prossima settimana.